Il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha concesso il patrocinio del Ministero della Cultura per l'edizione 2023 della giostra caleresca di Sulmona e delle giostre d'Europa dei borghi più belli d'Italia. Dalla segreteria del Ministero è stata anche confermata la presenza del sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi che assisterà a corteo storico e alle gare della giornata del 30 luglio 2023. E' un riconoscimento memorabile, ha detto il Presidente Maurizio Walter Antonini non appena ricevuto la comunicazione ufficiale dal Ministero della Cultura. Accogliere il sottosegretario Sgarbi ci permetterà di portare all'attenzione del governo italiano la nostra manifestazione, le potenzialità culturali ed enogastronomiche del territorio. L'obiettivo che stiamo portando avanti dalla ripresa post-pandemia, ha concluso il Presidente Antonini, è quello di crescere in qualità, affiancando alle nostre due giostre, quella di Sulmona e quella europea e dei borghi più belli d'Italia, ha altre manifestazioni culturali, personaggi di primo piano, nell'ambito della cultura e dello spettacolo, per conferire sempre più spessore e diffusione a un evento che preserva il patrimonio storico e artistico del territorio, tramandando la tradizione di generazione in generazione.